Se Voldemort avesse potuto leggere in anticipo la saga di Harry Potter, sarebbe stato sconfitto comunque? Oppure anche i signori oscuri imparano dai propri errori? E se un innocuo libro fosse utilizzato come arma? Da lui, la corte editore presenta Le magie di Omnia, il signore del destino. Un romanzo di Fabio Cicolani Un magico esordio in libreria